... Schianti in autostrada a Campofilone, un camion tampona un altro mezzo pesante, tra volti uccisi due centauri, un è grave in ospedale. Nuove scosse tra Pieve, Torino e Muccia, il sisma infinito, ripartono le verifiche e i paesi stretti nelle zone rosse. E poi le storie, la cavalla spaventata dalle scosse, travolge il suo cucciolo di tre giorni, è successo a Valfornace la testimonianza dell'allevatore. Parliamo ancora di sisma e degli aggiornamenti. Stasera a Sibilla le voci della ricostruzione alle 21.30 su Etv. Verso le elezioni amministrative di Ancone, il candidato della Civica, sostenuto dal centrodestra Tombolini, rilancia sul porto lo scalo cuore economico della città. Buonasera e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Etty G. Marche, in onda anche su Radio Center Music, frequenza 99.100, in primo piano la cronaca, come leggiamo anche dal portale tvmarche.it, di due motociclisti morti, uno di 72, l'altro di 66 anni, un altro ferito e il bilancio di un incidente stradale avvenuto attorno alle 12, lungo lato strada 14, all'altezza di Campofilone, nel tratto tra Grotta Mare e Pedaso. Sulla dinamica del sinistro sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale intervenuta sul posto insieme al personale medico del 118 e dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, un auto articolato rallentato per immettersi in un cantiere dell'autostrada quando è stato tamponato da un altro mezzo pesante che lo seguiva e che lo avrebbe spinto in avanti, travolgendo dunque i motociclisti. Due sono morti sul colpo, un terzo, come detto, è stato soccorso e trasferito in ospedale. L'incidente ha provocato anche rallentamenti al traffico veicolare con una coda di circa 2 chilometri. Ed ora torniamo nel maceratese, nuove scosse tra Piavetterina e Muccia dopo quella di magnitudo 4.6 del 10 di aprile alle 5.11. Il sisma infinito ripartono le verifiche, i paesi sono stretti nelle zone rosse e il focus su Camerino a cura di Lucio Cristino. Vediamo. Come si continua a vivere in questa zona? È elogorante a livello di testa. È chiaro che quando vai a dormire è sempre un po' questa paura perché quando dormi è il momento di massima fragilità che ha una persona. Però è chiaro, poi la mattina si fa forza e si ricomincia da capo. Il tempo che scandisce notte e giorno è lo stesso che intercorre tra le scosse di terremoto. Ogni volta nel buio che fa tremare e provoca nuovi danni segue una giornata per ricominciare. Dopo il 26 ottobre 2016, dopo il 30 ottobre dello stesso anno, dopo il 10 aprile 2018, ore 5.11, tremano Muccia, Piavetterina e Camerino, magnitudo 4.6, seguono altre repliche. Ogni volta si ricomincia a partire dai 40 nuovi sopralluoghi richiesti nella città Camerte. Si è detto un'emergenza senza fine. Sì, perché questi 40 sopralluoghi vuol dire che ci saranno 40 nuove schede EDES che dovranno essere riviste e quindi bisognerà ripartire da capo per queste 40 famiglie, per queste 40 persone. L'obiettivo è riaprire il centro storico partendo dalla messa in sicurezza sulle abitazioni private. Corso Vittorio Emanuele II a Camerino e i puntellamenti che sono iniziati sugli edifici privati permetterebbero di arrivare sostanzialmente dalla piazza principale, piazza Cavour, fino a Santa Maria in via. La strada è piuttosto stretta e per cui bisogna alternare poi i cantieri. Questo che tipo di tempo potrebbe far perdere? Allora, i tempi stimati per completare i puntellamenti delle principali vie di accesso alla città, quindi dal Duomo a piazza Santa Maria in via, sono all'incirca un anno e mezzo. Per Camerino, aspettando una ridefinizione dei comuni nel cratere sismico, tra i più colpiti e i meno colpiti, una sfida, diventare a centro storico riaperto anno 2020, modello di ricostruzione. Poter visitare la città vuol dire poter visitare i cantieri e quindi potrebbe essere anche l'occasione per questo passaggio di poter studiare, poter utilizzare la città come fosse un laboratorio per degli studenti, magari di architettura, ingegneria, poter vedere i lavori come proseguono, poter vedere i puntellamenti e così via. Come detto dunque, sembra davvero un sisma infinito, una scossa di magnitudo 3.4, è stata registrata alle due, con il piccentro ancora a due chilometri da Pieve Torina, si tratta della più forte di quattro scosse rilevate dalla mezzanotte nella zona, tra cui un'altra di magnitudo 2.9 a lunedì 52, martedì notte, insomma l'abbiamo detto, la scossa da 4.6 che ha portato paura e nuovi danneggiamenti e sono in corso le verifiche sugli edifici finora agibili, forse non lo sono più, bisogna ripartire ancora con le verifiche a Edes appunto per capire se questi edifici sono ancora abitabili o meno, ci sono stati anche danni all'interno delle SAE, piccoli danni, sono caduti mobilio e suppellettili a Pieve Torina, peraltro l'aggiornamento è di sette famiglie tuttora scollate. Ne parleremo stasera all'interno del nostro spazio settimanale Sibilla le voci della ricostruzione in cui da settembre teniamo il punto tutte le settimane per quanto riguarda ciò che succede nell'area colpita dal terremoto del centro Italia dal 24 agosto 2016. Ed ora andiamo avanti ancora con la cronaca i vigili del fuoco invece sono intervenuti ieri sera a Posatora in via Monti Sibillini ad Ancona per l'incendio di un'autovettura coinvolta una Smart che è andata completamente distrutta la squadra dei vigili del fuoco sul posto ha estinto l'incendio che ha provocato danni anche alle auto e alle strutture nelle immediate vicinanze e ha anche messo in sicurezza l'area circostante. Ed ora apriamo una pagina dedicata alla sanità regionale prendiamoci cura a proposte concrete per migliorare spazi e servizi all'interno dell'ex CRAS di Ancona l'iniziativa dei sindacati sentiamo Andrea Fian Promuovere la cultura del valore della cura delle persone attraverso l'ascolto attivo la rilevazione dei bisogni e l'individuazione di possibili soluzioni questi gli obiettivi del progetto prendiamoci cura promosso da cittadinanza attiva delle Marche CGL Cisleville di Ancona e rispettive sigle di pensionati l'indagine è stata realizzata nel novembre scorso nell'area ex CRAS del capoluogo attraverso la somministrazione di questionari il monitoraggio ha permesso di raccogliere segnalazioni e istanze per fare dell'ex CRAS uno spazio urbano nel quale le persone possano trovare servizi efficienti ed efficaci gli utenti sono abbastanza soddisfatti dei servizi però evidenziano alcune criticità strutturali sulla viabilità interna sul modo in cui si può accedere ad alcuni servizi tipo la fisioterapia tipo il servizio di medicina legale tipo la distribuzione farmaceutica è anche emerso che questo è un luogo che potrebbe essere restituito alla cittadinanza come parco pubblico con degli opportuni correttivi la creazione di un bar interno una maggiore illuminazione ed è sarebbe importantissimo per un quartiere che necessita di un'area verde è uno dei luoghi principali di gestione e smestamento dei servizi sanitari per la città da vari punti di vista ed è invece anche un luogo molto importante dal punto di vista ambientale urbanistico per la città l'operazione che abbiamo fatto con questi dagini è proprio una ripresa del valore di questo territorio da una parte chiamando un'attenzione attorno alla qualità dei servizi questa è la sede del CUP per esempio quindi ci sono erogazioni costanti di servizi fondamentali per il pubblico in termini di sanità dall'altra è un'occasione di prosecuzione dell'attività di recupero ambientale e di utilizzo nuovo anche delle possibilità del sito che pensiamo vadano approfondite è un progetto sperimentale che verrà proposto a livello nazionale nel monitoraggio che abbiamo fatto attraverso i questionari sono diverse delle criticità delle criticità sul perimetro interno per quanto riguarda la manutenzione del verde ma soprattutto quello che ci interessa le risposte degli utenti e degli operatori con criticità sia pur di medio livello ma che persistono mi riferisco alla segnaletica alla medicina del lavoro mi riferisco alla fisioterapia ancora sulla sanità le opposizioni nel consiglio regionale contro la gestione appunto del comparto sanità contro la gestione Ceriscioli sentiamo la totale assenza di programmazione abbiamo visto non solo attraverso lo strumento principe che è appunto il piano socio-sanitario un'assenza pesante in quella che è un ruolo gestionale importantissimo e programmatorio ma di fatto abbiamo una regione che in qualche modo è ferma al 2000 per quanto riguarda la riproposizione dei LEA sul territorio e abbiamo purtroppo un modello sanitario che non risponde alle esigenze dei cittadini stiamo vedendo in questi purtroppo anni di gestione fondamentalmente dei tagli a quelli che sono i servizi erogati sul territorio stiamo vedendo un impoverimento di quella che è la sanità pubblica a tutto questo noi vogliamo dire no vogliamo dire in qualche modo di cambiare rotta questa regione è una sanità che ha un budget esclusivamente di spesa per cui non bada più ai bisogni della persona ma si rivolge in genere alle comunità e siccome questa è una regione Marche al plurale dove le comunità sono disperse sui territori se noi non torniamo a parlare delle persone facciamo fatica naturalmente a portarci i servizi socio-sanitari e quindi occorre ricominciare proprio da dove siamo fermi il 2000 è dura dirla però sono 18 anni che questa sanità marchigiana che doveva essere riformata in un certo modo non è stato fatto quindi noi proponiamo adesso un atto programmatorio che spero naturalmente la Giunta possa prendere in considerazione nei prossimi mesi il discorso degli ospedali unici si sta riproponendo non solo su Marche Sud ma in tutta la regione come un qualche cosa che nella maggior parte rimane sulla carta quindi sembra in qualche modo adesso lo dico una sorta di distrazione di massa per non parlare di altri problemi far discutere su come dire dividere i territori sulla collocazione di questi ospedali nella maggior parte dei casi non sappiamo i finanziamenti quelli che erano finanziati lo vediamo sono fermi al palo perché se andiamo a guardare io ci passo quasi tutti i giorni di fronte a Camerano abbiamo diciamo l'ospedale bloccato quindi sono delle questioni sulle quali bisogna porre fortemente l'attenzione senza però cercare di creare un campanilismo e una lotta fra territori Un giovane dall'apparente età di 20 forse 25 anni di origine libica a quanto pare si è gettato in mare da un traghetto dell'Anek Lines proveniente dalla Grecia che si trovava in mare aperto davanti al porto di Ancona il ragazzo non è in pericolo di vita è stato notato dal personale di un natante degli ormeggiatori di Ancona che lo ha recuperato e preso a bordo è intervenuta una motovedetta della Capitaneria di Porto in banchina il giovane che ha subito un trauma cranico ed era in condizioni di ipotermia è stato soccorso dai sanitari della Croce Gialla 118 anche con dei teli termici appunto per far salire la temperatura corporea sul posto la Polizia di Frontiere il ragazzo è stato trasferito all'ospedale di Torrette per gli accertamenti del caso e restiamo al porto di Ancona però verso il percorso delle amministrative nel capoluogo regionale il prossimo 10 giugno il candidato della Civica ha sostenuto e dalle centrodestra Stefano Tombolini rilancia proprio sul porto lo scalo come cuore economico della città sentiamo una valorizzazione del porto in chiave commerciale una valorizzazione del porto in chiave produttiva con attenzione ai cantieri l'auspicio è quello che l'amministrazione comunale sia in grado di assumere un ruolo capace non soltanto di illuminare i lungomari ma di rendere il porto come un polmone economico e sociale di questa comunità lavoro turismo ambiente si declina per macrotemi l'idea di Stefano Tombolini candidato sindaco del centrodestra sostenuto da alcune liste civiche sulla porto di Ancona uno scalo in cerca di rilancio con la cantieristica le infrastrutture e qui ritorna sempre verde argomento dei collegamenti in uscita con la grande viabilità e infine con l'attrattività di una città che possa diventare capace di accogliere il turista crocerista visitatore i passaggi alberghieri i contatti alberghieri rimangono sempre modificati da tanto tempo noi riteniamo che insieme alle compagnie di navigazione con l'ausilio dell'autorità portuale si debba arrivare a modificare gli orari di arrivo e di partenza in questa città con una lettura in duplice chiave innanzitutto la fascia mattutina necessita un arrivo serale che consentirebbe alle persone di visitare la piastra commerciale di utilizzare i bar di acquistare la merce nei negozi di andare al ristorante un milione di contatti il 20% significherebbe 200.000 persone che usano la nostra città non lo possiamo fare perché gli arrivi e le partenze sono in orario comodo la gente arriva sta dietro le sbarre fa il check in in un'altra parte della città e rimane relegata in zona doganale per ore senza poter usare la città e tra le storie dal sisma che vi abbiamo segnalato anche nei nostri titoli c'è quella di un allevamento di Val Fornace una cavalla spaventata dalle scosse che ha travolto purtroppo il suo cucciolo nato da tre giorni succede anche questo nell'Italia centrale colpita dal terremoto in particolare nel Maceratese che risulta epicentro di queste ultime scosse vi racconteremo questa storia nei prossimi notiziari e nei nostri approfondimenti ricordandovi appunto l'appuntamento questa sera alle 21.30 con Sibilla le voci della ricostruzione io per il momento mi fermo qui la linea passa alla nostra rubrica Marche Flash e poi la parte sportiva del nostro notiziario a cura di Andrea Fiano restate con noi a cura di Andrea Fiano